Sono Mauro Antonini, sono un dirigente di Heidelberg Italia, responsabile della parte tecnologica. È stato un anno molto importante, un anno molto importante perché Heidelberg è riuscita nell'intento di diventare l'azienda più importante per la fornitura di attrezzature al mercato della cartotecnica che è sempre stato uno dei nostri obiettivi più ambiziosi visto che Heidelberg qualche anno fa ha iniziato la costruzione e la produzione di macchine proprio per riuscire ad entrare in questo mercato estremamente importante. Sarà un anno fondamentale dal punto di vista tecnologico ma credo ne parleremo successivamente. Per quanto riguarda il coronavirus chiaramente stiamo affrontando il problema. Sappiamo che la Cina è un mercato per noi come per moltissimi altri produttori molto molto interessante perché è il mercato che sta crescendo di più. Noi addirittura abbiamo anche fabbriche e partner in Cina che in questo momento però nonostante tutto quello che si sente stanno producendo, le fabbriche quindi sono attive e sono produttive chiaramente stiamo guardando con attenzione all'evolversi della situazione. In questo momento ci sono delle difficoltà, è chiaro, quindi di conseguenza è chiaro che vedremo nei prossimi mesi l'onda di una diminuzione del fatturato. Finishing continua ad essere core per Heidelberg, continua ad essere molto importante, continua ad essere parte integrante della nostra idea di servire il cliente a 360 gradi e sarà sempre più automatizzato. Noi abbiamo due partner importantissimi nel mercato mondiale che sono uno MK che è un produttore cinese di tecnologia di altissimo livello con il quale stiamo cooperando in modo serio e stiamo costruendo e progettando dei prodotti insieme, mettendo insieme le esperienze delle nostre aziende e MK sta utilizzando molto i nostri ingegneri, la nostra parte di ricerca e sviluppo per cercare di creare nuove tecnologie. E poi abbiamo un altro partner importantissimo che è Polar, Polar è un'azienda famosissima che lavora con Heidelberg, direi da sempre, addirittura moltissimi clienti pensano che sia di proprietà Heidelberg, invece non lo è, ma insieme stiamo sviluppando prodotti innovativi e soprattutto Heidelberg si sta muovendo per la parte finishing nel campo della robotica. Siccome l'area finishing è un'area che ancora oggi è molto manuale e ha bisogno di azioni anche pesanti da parte delle persone, in questo momento con la robotica riusciamo ad aiutare il processo produttivo per renderlo sempre più armonico e meno faticoso proprio fisicamente per le persone. Come abbiamo già anticipato dai primi comunicati, vedremo macchine estremamente automatizzate e autonome, quindi lavoreremo con macchine con intelligenza artificiale che possono decidere da sole i settaggi delle macchine al cambio di lavoro e soprattutto avremo la parte di robotica, come ho citato prima, al servizio della macchina, quindi vedremo dei workflow dedicati alla parte commerciale, alla parte packaging e alla parte digitale completamente automatizzati, dove l'intervento dell'uomo sarà di controllo alla macchina ma tutte le operazioni, tra virgolette il lavoro sporco, verrà fatto da questi robot collegati e inseriti nell'intelligenza artificiale della macchina. Non interessa ad albero avere macchine che vanno a 20 a 30 mila copie, a noi interessa, siccome la tendenza del mercato è quella di avere tirature sempre più brevi, di far sì che finito un lavoro alla ripartenza del lavoro successivo si impieghi il meno tempo possibile. L'obiettivo nostro è la produttività, la produttività si misura in ore di lavoro e di conseguenza dobbiamo garantire ai nostri clienti il fatto che teoricamente la macchina non si fermi mai. Allora sì, direi che sono sulla buona strada, c'è sempre tanto da fare, c'è sempre da migliorare. Negli ultimi anni, da quando c'è l'iperammortamento, ovviamente i produttori di attrezzature sono stati agevolati perché hanno avuto la possibilità di vendere qualche macchina in più. Le aziende stanno facendo un ottimo lavoro, i nostri clienti stanno facendo questo grande lavoro di armonizzazione della produzione non solo perché hanno il beneficio dal punto di vista fiscale, che è chiaro ed è importante ed è serio e continuerà fortunatamente, ma anche perché con queste tecnologie tutte interconnesse permettono, io uso spesso la parola armonizzare perché è proprio questo, bisogna armonizzare la produzione perché attraverso l'armonizzazione della produzione riusciamo ad avere delle economie per avere il nostro prodotto che costa sempre meno rispetto a quelli dei clienti di altre nazioni. Direi che gli italiani, le aziende italiane sono riuscite a lavorare molto bene in questo senso con noi, con Heideberg si sono trovate molto bene per questa facilità di interconnessione ma direi che stanno usufruendo di questa agevolazione in modo molto serio. C'è molto da fare perché comunque siamo un mercato con un parco installato in generale molto ampio ci sono moltissime attrezzature che devono essere sostituite il grande vantaggio in questo momento dei clienti, parlo in casa Heidelberg è che riusciamo con le attrezzature nuove a sostituire più attrezzature di generazione precedenti dimostrato dai fatti già negli ultimi due anni quindi riusciamo a ridurre le attrezzature presenti sul mercato però che producono di più e danno più opportunità soprattutto applicative.